La Renesis Energy investirà in Molise. Si tratta di un'azienda statunitense specializzata nella progettazione e nello sviluppo di batterie che ha annunciato di voler realizzare stabilimenti produttivi di ultima generazione in Italia e uno di questi dovrebbe venire su nell'area COSIB di Termoli. Il progetto, con un investimento complessivo di circa 400 milioni di euro in diverse regioni, creerà mille posti di lavoro a cui si aggiungeranno quelli dell'indotto. L'azienda ha annunciato le proprie intenzioni nel corso di un incontro con il ministro Adolfo Urso. Le altre sedi apriranno in Friuli Venezia Giulia, Puglia e Sicilia. L'assessore regionale Andrea Dilucente sottolinea che si tratta di un progetto seguito da diversi mesi. Queste sono batterie non per auto ma sono accumulatori industriali che serviranno principalmente per le BES nei siti industriali. Era un monitoraggio che stavamo facendo da tempo, c'erano state diverse interlocuzioni con gli americani, non avevamo detto nulla fino ad ora perché aspettavamo la presentazione del piano industriale al ministero e ad Invitalia. Ieri c'è stata la presentazione e la prima firma. Ora aspettiamo l'iter conclusivo e a breve ci sarà una conferenza stampa con il Presidente e con il Consigliere Di Pardo che insieme a me in questi periodi hanno seguito questa attività.